In questi giorni. E' già? E' già? E' già? E' già? No, vabbè, come questa sabbia martedì non si può pronunciare l'antidio così. Allora, martedì scopriremo tutti intanto grazie a tutti. 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 Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, come si è? Abbiamo sentitato l'Italia del Brasca, ieri sera in Sudumana, sono i due premi speciali della critica, ovviamente, che sono stati assegnati a Indem 2009, ma a Teatro d'Alberbe il 15 di ottobre, quella sera in cui abbiamo ascoltato tutti i gruppi che erano arrivati nella base finale, la giuria si è spaccata a metà perché c'erano, insomma, degli artisti che hanno racconto un grande consenso. Infatti, ieri giuria abbiamo dovuto quasi inventare al momento al volo due premi speciali. E' vero, i premi speciali e gli artisti che sono stati invitati per merito artistico ieri sera e questa sera. Ieri sera abbiamo visto Ornella Fiorini da Ostiglia, non da Mantua, da Ostiglia, provincia di Mantua, ma questa sera invece... Questa sera invece abbiamo un gruppo che arriva dalla provincia...